Ehi la ciurma! Benvenuti in questo nuovissimo video di Untarned, io sono Mazzetest e sono qui con... Marco88 Siamo qui per mostrarvi un paio di cosette, un po' cosose, diciamo. Ci sono stati degli aggiornamenti significativi ad Untarned e soprattutto delle due cose di cui io e Marco sentivamo più la mancanza. Cioè, le Hulk donna. O no? Infatti oggi andremo a caccia di escort con questa macchina arancione. Sei pronto Marco? Sì. Ok, niente, stiamo trollando. Eh? Ma sei pazzo! Mi hai dato sanguinamento! Sto morendo Marco! Sto morendo! Scusa, non ho bisogno di avere una sicura! Ok, per fortuna che avevo una benda nell'inventario, sennò sarei morto. No! Pazzo! Ok, non abbiamo ancora tolto il PvP, ci siamo dimenticati. Marco ricordami quando chiudiamo sta registrazione di togliere il PvP. Allora, come potete vedere qua da quello che ha piazzato... Ah, è, esatto, perché abbiamo cambiato casa. Abbiamo cambiato casa e lui ha quel fucilazzo, perché? Due punti. Perché hanno cambiato la mappa, quindi i saccappelli erano nel mezzo dell'ula, quindi morendo sono spawnato dentro una caverna. E dentro la caverna c'era una piattaforma con una TV e con questi fucili. Con questi. Uno è da questo e l'altro l'ho messo dentro la cassaforte che è qua. Porca miseria, Marco mi suona il telefono, stacchiamo un attimo. Sì. Ok. Bello, ti ho colpito proprio in mezzo agli occhi. Dove non batte. Comunque si stava dicendo... Come si fa a abbassarsi, scusa? Non mi ricordo, forse con C... X. Con X. No, adesso sta. Non importa, ho trovato un medikit, questo ci serve. Ah, e con Z si striscia, guarda come striscio. Guarda come striscio, guarda come striscio, lo li lo. Guarda come striscio, guarda come striscio, lo li lo. Vabbè. Sei server metto. Server metto. Comunque, ecco, invece, in questa puntata, oltre ai cambiamenti della versione di Untarmed, della mappa, eccetera, eccetera, vi mostreremo due cambiamenti epocali. Uno, questa forma di storage, insomma, che è la cassaforte che c'era negli altri Untarmed, c'era in Untarmed versione 2, e che non funziona per gruppi, ma solo per persone, e di cui non esiste ancora il crafting. Da quello che ho potuto capire, dalle pochissime notizie esistenti. Vieni, mettila qua. La tua, mettila qua, per fare simmetria con la mia, guarda. Eh, però è brutto, là ci sono i letti. Non mi piace vicino al letto, per la cassaforte. La metto qua. Però così riesci a salire così, guarda. È per quello, guarda. Se no non riesci a salire nei letti. Vabbè, ma sali dai barili. Sì, la metto qua, guarda. Sì, però guarda che Bellof da sopra, sembra un punto d'appoggio. Vabbè, comunque, come vuoi. La metto qua così, è un passaggio tra i due ponti, tra i due cosi. Ok. Ok. Tra l'altro non posso usarla, quindi. No, esatto. E tra l'altro, premendo F vicino ad essa, vi fa vedere lo storage, che è molto grande. Blocked? No, non posso togliere il blocked. Ha 32 slot, ed è un discreto spazio. Diciamo che queste me le sono givvate, l'altra la metto qua vicino. Me le sono givvate, giusto per farvele vedere. Beh, per ora ne ho due io. Poi vabbè, al massimo se saranno craftabili ne metterò un altro. Per ora non abbiamo bisogno di tanto storage, almeno io non ho bisogno di tanto storage. Allora, facciamo una cosa tecnica. Non ho messo la sega che avevo preso un attimo fa, però. Non lo so. Toh. Metti questi dpi, doc, qualcosa. Vado a vedere. L'avrò persa da qualche parte? Che chiese. L'avrei lasciata in giro. Tools. Apparello. Ma me l'avevo un attimo fa. Qua c'è dello scotch per terra. Non è che l'hai presa super sbaglio, Marco? No, è qua. Ah, era rimasta là? È qua da qualche parte. Secondo me è rimasta qua da qualche parte. Io non ce l'ho comunque. No, qua non c'è. Allora, io controllo nel mio inventario. Chiodi. Lascia. Ah no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Il made. Ce l'ho, ce l'ho. Eh. Ah, ok, ok, ok. Perfetto. Perfetto ci sono, perché mi serviva per fare delle assi di legno. Scusate, sono stupido io. E allora, appunto, oltre a quello c'è un grande cambiamento che è quello dei semi. Finalmente delle coltivazioni che... Oh, oddio, finalmente si può reperire un po' alla mancanza di cibo. Dove sei andato, Marco? Ah, sta facendo manovra. Guardatelo, che teneo! Però niente sfida, uomo, verso macchina, sto giro. L'abbiamo già fatta. Poi prima mi sono fatto sgozzare da Marco 88. E dopo ci sei fatto fucilettare. Ma sei sceso con la macchina che ancora andava, lol. E appunto, come potete vedere, qua ci sono i vari semi, che sono di sei piante diverse, se non sbaglio. C'è il mais, c'è la lattuga, c'è la patata, c'è il pomodoro, c'è il grano e basta. Allora, io ho craftato delle assi perché oltre ad essere poggiati al suolo, questi qua possono essere poggiati in delle specie di serie, che adesso sono diverse, perché non sono più come nella 2.0, ma dovrebbero essere sotto barricades. Infatti, con 5 assi e un fertilizzante che ho trovato per strada venendo in qua, si fa questo bellissimo oggetto. Dove piazzo Marco? Piazziamo qua fuori, in questo specie di balconcino. No, qua dietro, uh, questo spazio sembra proprio vicino ai cassonetti, che dici? Dove? Terra, chiama Marco? Qua, 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 girati! Stavo controllando. Eh, cos'è che stai posizionando? Qua, vicino al cassonetto. Scusami. Va bene? Pa-pa! Hai visto che sexy? Muy sexy! E in questo oggetto possiamo piantare tutti i vari tipi di semi. Tipo, cosa possiamo piantare? Una cosa molto interessante è il pomodoro. Che adesso vi mostrerò. Perché particolarità interessante del pomodoro in questa versione è che... Che è un pomodoro. Che è un pomodoro, esatto! E quindi ti permette di... Avere dei pomodori. Lanciarlo agli zombie. E lanciarlo agli zombie, esatto. Esatto, avere dei pomodori per lanciargli agli zombie. Ah ma, Harvest è già pronto. Che cazzo? C'è un bug, credo. Ah no, growing, ok. Appena piazzato mi diceva Harvest, adesso mi sta dicendo che è growing. Una cosa particolare del pomodoro è che oltre a dare fame dà anche sete, cioè nel senso di seta anche Gli altri ortaggi anche, ma in modo minore, diciamo, quello che dà di più è il pomodoro Adesso metterò anche delle patate, giusto per occupare questo spazio Poi se per caso troveremo dell'altro fertilizzante in giro Ah, appena pensata mi dava harvest, boh, che stupido Vediamo se ci sta anche questo che cos'è Grano, lattuga, mettiamo della lattuga Che non dovrebbe occupare troppo spazio, perché gli altri occupano un po' di spazio in più E vabbè, gli altri li metteremo nel nostro nuovo spazio di storage Ho preso il legno, Marco, che avevi lasciato per terra Sì, te l'hai lasciato apposta perché intanto io stavo andando a cercare altre cose Ok, allora, mettiamo tutto qua dentro Via, spostati Il fucilazzo non me lo tengo perché non so che farmene Il mio personaggio ha piuttosto fame Il mio personaggio ha piuttosto fame Allora devi andare a cercare della roba Forse sì Non hai del cibo, beh Sì, ho del tomato soup Aspetta che te lo droppo Arrivo Sarebbe uno spettacolo se si potessero fare le zuppe, appunto, lo tomato soup con i pomodori E non solo prendere il cibo e mangiarlo crudo così com'è A me piacerebbe poter conservare il cibo Togliti Togliti, devo prendere il pomodoro Andiamo, dai su Che violento Aspetta che lascio ancora la... Ah, la roba la posso scraftare però, eh Quella mi da un... Dovrebbe potermi far craftare il... No, non era una roba, scusa, quella che ho qua Una wire E vabbè, niente Comunque mi hanno... Ho trovato anche un altro letto Voglio fare una cosa trascendentale, guarda Un po' una cacca Guarda qua dove posso mettere il letto Beh, lol Ok, questo sarà il segnale di casa Detto questo possiamo anche andare a farci un giro sulla mappa nuova Già Da che parte andiamo? Girati e andiamo nella zona militare perché l'hanno cambiata E sono curioso di vedere se ci sono delle armi super potenti Quale? Adesso appena in là Aspetta che c'è qualcosa per terra Cosa è che hai lasciato l'apertura di giallo? Una maglia Ah, io sono senza maglia Vai Aspetta, allora guido io Ecco, guida tu Tra l'altro, quanto siamo arrivati di video? 9 minuti e mezzo Se vuoi possiamo farne staccare qua e farne un altro Eh, insatti Nel prossimo episodio andremo all'esplorazione di quella montagna schifosa e rima Quindi da Marco Tanto De è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio Anche da Mazzates è tutto Ciao 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 Ciao